Le teorie del complotto di Kino, ci potrebbe aprire una nuova serie basata su queste cose, più che altro ragazzuoli per me è inevitabile fare questa considerazione una volta che sono usciti video di Brazo Saliamisic, il grande brasone che nel giro di due ore, due ore e mezza arriva a Torino, si incontra con la Juventus e riprende l'aereo per tornare a Monaco di Baviera e poi risulta che fondamentalmente ancora c'è una distanza abissale tra la Juventus e il Bayern di Monaco e che quindi fondamentalmente è stato più o meno un nulla di fatto, eh no, e qui il ciucco non ci sta e qui parte appunto la teoria del complotto del sottoscritto e attenzione non è minimamente un attacco ai giornali e giornalisti che hanno detto o diranno cose di questo genere perché loro giustamente fanno il loro lavoro, dicono ciò che sanno, dicono ciò che magari gli viene detto giustamente, soprattutto quando fai l'insider di mercato e quant'altro e quindi ci mancherebbe altro che loro non facciano il loro lavoro in tutta tranquillità, anche perché tanto fondamentalmente tutti quanti hanno parlato di una distanza ancora importante ad oggi tra la Juventus e il Bayern di Monaco per l'affare De Ligt, solo che in tutto questo, quando hanno fatto il video a Salia Misic mentre stava tornando a Monaco di Baviera in aeroporto e gli hanno chiesto ma sei fiducioso di questo accordo che si potrebbe fare per De Ligt, lui con un sorrisino da mezzo ebete ti ha detto beh, sempre, sono sempre fiducioso a robe di questo genere io dico la verità, io la mia idea me la sono fatta, anche perché parto da un presupposto molto importante che magari è completamente sbagliato è però una mia idea che mi sono costruito, prima però ragazzone un bel mi piace, questo a questo punto ve lo chiedo perché mi ero scordato di chiederlo nell'intro, nel preambolo quindi ve lo chiedo adesso e iscrivetevi, se ancora non l'avete fatto mi raccomando, anche perché se non vi volete perdere le prossime teorie di complotto a questo punto fatelo adesso, iscrivetevi e ce ne puliamo le mani, però tornando al mio discorso invece a me fa strano che a maggior ragione poi uno come Salia Misic ma in generale un qualsiasi dirigente apra effettivamente una trattativa nel momento in cui si fa delle ore di viaggio in aereo nel 2022 quando ci sono penso infiniti mezzi per raggiungere persone magari anche virtualmente e iniziare quantomeno ad avviare delle trattative iniziare a fare i primi ragionamenti, i primi discorsi legati alle cifre, legati a ogni tot, ogni quanto c'è da pagare ecco, in quanto dilazionare un accordo, un eventuale accordo e quant'altro io dico la verità, a me puzza l'idea che Salia Misic si è arrivato oggi a Torino per aprire ufficialmente la trattativa per l'idea che si è fatto il sottoscritto, oggi Salia Misic l'è venuta a chiudere la trattativa che è una roba completamente diversa, secondo me, che poi magari mi sbaglio, attenzione ci mancherebbe altro non lo sono qui a dire, è andata sicuramente così, credete a me e non credete ai giornalisti perché chi sono io in confronto al giornalista? Assolutamente nessuno è proprio una mia idea che mi sono fatto a me viene quasi impensabile pensare perdonate così il gioco di parole un pochino strano che Salia Misic sia venuto a Torino così giusto per, dai, andiamo a fare un sondaggio, vediamo che aria tira io ho seri dubbi su questo, ho veramente seri dubbi io per esempio ritengo molto più verosimile, anche perché è una ricostruzione che mi sono fatto io quindi ci mancherebbe altro, se non la ritengo verosimile neanche io è un massacro nel senso però ritengo più verosimile che magari, ok oggi tu hai chiuso tutto però intanto ti prendi quella che è una settimana, una decina di giorni quelli che saranno, lo vedremo per intanto tu chiudere il rimpiazzo con la speranza che siano i rimpiazzi in realtà io la vedo molto così, la vedo come un D noi abbiamo fatto tutto quanto, ci si astretti la mano ve lo diamo a voi, anche perché da quello che si dice pare che il giocatore stesso spinga direzione Monaco di Baviera anche magari grazie alla cifra che pare gli abbia promesso il buyer di Monaco però intanto facciamo finta che nulla è finito facciamo finta che anzi tutto è appena iniziato così intanto io mi muovo e chiudo già i colpi o il colpo per rimpiazzare delict anche perché giustamente altrimenti se tu metti vendi delict domani così per ipotesi poi ti presenti da una nuova squadra per un difensore centrale quella nuova squadra è consapevole del fatto che tu delict l'hai già venduto va a capire che cazzo di cifra ti chiede per un giocatore che magari sì è buon, interessante quant'altro ma te lo mette alla cifra di un top player in modo anche legittimo perché poi ovviamente dopo sul mercato ognuno tira l'acqua al proprio mulino e ognuno fa i propri interessi e ci mancherebbe altro che non sia così però veramente l'idea che oggi uno come Salia Misdic sia venuto così per sondare il terreno e per aprire ufficialmente la trattativa Bayern delict onestamente dico la verità mi stona secondo me è venuto semplicemente a chiudere la trattativa poi magari senza ombra di dubbio mancheranno gli ultimi accordi gli ultimi bonus gli ultimi cassi no legati a trasferimenti di questo genere è ok ma secondo me buona parte del grosso è stato bella che fatto mancano veramente magari se manca qualcosa proprio gli ultimi accordi quelle cose da limare che sicuramente non ti fanno sfuggire una trattativa per come la vedo io e poi magari mi sbaglio completamente e ci mancherebbe altro è proprio un'ipotesi che ho avanzato perché proprio mi ha stonato anche nel video di oggi proprio ho detto verrà Salia Misdic a Torino e quindi probabilmente rischia di essere proprio il giorno decisivo se leggo dopo che esce il video di Salia Misdic che torna verso Monaco di Baviera inizia oggi la trattativa qui c'è un qualcosa che non mi torna mi sa abbastanza di supercazzola ecco che dal lato dei club lo posso capire perché fa parte delle dinamiche di mercato e magari la Juventus si deve sistemare a modo prima di cedere ufficialmente dell'Igt mo che sia veramente iniziata oggi la trattativa insomma qualche dubbio nel merito onestamente mi sento di sollevarlo magari sbagliando assolutamente perché no però nel 2022 mi immagino le trattative impostate anche in modo differente non necessariamente che uno ogni volta si deve fare due ore di viaggio per stare a Torino due ore per farsi altre due ore di viaggio se lo fa è perché probabilmente si è messa la pietra tombale o quasi sull'avventura tra l'Igt e la Juventus a favore del Bayern di Monaco ma poi per il resto ovviamente vedremo vedremo anche se nei prossimi giorni magari inizieranno ad uscire qualche cifra un pochino così che poi si sposteranno sempre di più verso quella giusta e poi ci sarà effettivamente l'ufficialità del passaggio di delict al Bayern di Monaco ma nessuno mi leverà dalla testa questa idea che mi son fatto che fondamentalmente è tutta bella che fatto è finito ed è solo questione di tempo ecco tutto qui né più né meno voi ovviamente ragazzuoli fatemi sapere l'idea che vi siete fatti voi invece qui sotto con un commento io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine Forza 2